Nella video lezione di oggi noi passeremo in rassegna gli eventi più importanti della biografia di Luigi Pirandello. Si tratta di una biografia estremamente ricca di episodi importanti e quindi seguendo Romano Luperini noi divideremo la sua biografia in cinque tappe importanti, gli anni della formazione, la coscienza della crisi, il periodo della narrativa umoristica, il teatro umoristico e il grande successo internazionale e poi l'ultima stagione quella del surrealismo. Andiamo per grani. Cominciamo dai primi anni, gli anni della formazione. Luigi Pirandello nasce nel 1867 in un soborgo vicino a Grigento dove si erano trasferiti per sfuggire un'epidemia di colera ai suoi genitori. Ma la situazione diventa abbastanza complessa e quindi i genitori di Pirandello e quindi lo stesso Luigi Pirandello sono costretti a trasferirsi nel 1880 a Palermo e qui rimarranno fino al 1887. Pirandello prova per la verità, finite le scuole, di dedicarsi all'amministrazione delle zolfare del padre, ma tentativo sarà fallimentare e questo aspetto è particolarmente interessante perché noi avevamo già parlato in una precedente video lezione sull'inettitudine come uno dei temi ricorrenti dell'inettitudine sia il rapporto tra l'inetto, il figlio e il padre, un padre vincitore, un padre che riesce nella vita sicuro, deciso e un figlio invece incapace di emulare il padre stesso. Ecco, diciamo che una cosa simile è successa per qualche mese a Luigi Pirandello quando poi decide, non stesso Luigi, di abbandonare questa amministrazione perché non è per lui e si dedica all'università, si scrive all'università tra lettere e legge e indeciso fino a quando appunto nel 1887 si trasferisce a Roma dove rimarrà fino al 1890 e qui sceglierà la facoltà di lettere. A causa di un disguido possiamo dire, a causa di un litigio con un docente e sul consiglio anche di un altro professore, lui amico, si trasferisce nel 1890 a Bonn dove rimane fino al 1891 e qui si laureerà. Vediamo gli anni immediatamente successivi a quelli della formazione. Sono gli anni che vanno dal 1892 al 1903, sono anni molto importanti. Infatti nel 1893 Luigi Pirandello, su esortazione anche di Capuana, dalle stampe Marta Iala, un testo che ancora risente moltissimo dell'impostazione virista e che poi troveremo ripubblicato da Pirandello con il nome dell'esclusa. Nel 1894 sposa Maria Antonietta Portulano e nello stesso anno pubblica in un volume intitolato Amori senza amore le prime novelle. Nel 1897 riceve l'incarico del professore all'istituto superiore del Magistero di Roma e qui appunto cerca di avere un introito abbastanza sicuro per mantenere la moglie e i figli che nel frattempo stanno arrivando e che arriveranno. Il 1901 è l'anno in cui Marta Iala, cambiando nome, diventa l'esclusa. Torneremo poi su questo cambiamento di nome perché capiremo come quel romanzo verista diventa già un romanzo nuovo che respira un clima culturale profondamente mutato. Nel 1902 pubblica altri due libri di novelle, probabilmente anche questo per arrotondare lo stipendio e cercare di far stare meglio la moglie ma anche la famigliola. Il 1903 è un anno veramente fondamentale per Pirandello, purtroppo un anno caratterizzato da due disastri, due disgrazie, il disastro economico del padre e la conseguente malattia mentale della moglie. Che cosa è successo nel 1903? Ebbene la dote della moglie era stata investita dal padre nelle miniere di zolfo, nelle zolfare, ma in quell'anno, cioè nel 1903, ci fu un allagamento. Questo allagamento delle zolfare fa perdere il capitale investito e quindi le conseguenze del Pirandello sono veramente difficili e complesse. E soprattutto sono duplici, perché da un lato chiaramente perde l'introito o comunque il possibile aiuto del padre, perché il padre perde la sua attività e quindi al limite sarà il figlio a dover passare qualcosa al padre. E la moglie, che era una persona dalla psicologia già debole e abbastanza alterata, viene colpita da una paralisi che appunto può influire profondamente sulla famiglia, su Luigi Pirandello e che poi vedremo insomma come procederà questa malattia della moglie e quali saranno appunto le conclusioni, cioè dove poi la moglie sarà portata da Pirandello. Il periodo che va dal 1904 al 1915 è il periodo della narrativa umoristica, il grande periodo della prosa. Un periodo che si apre nel 1904 con un romanzo straordinario, uno dei romanzi più importanti del novecento, il fu Mattia Pascal, che scompagina completamente il concetto di romanzo tradizionale, seguito da un altro testo, l'umorismo, che è dedicato a Mattia Pascal, bibliotecario, nel 1908. Il testo dell'umorismo è un testo di fondamentale importanza per comprendere la poetica e l'ideologia di Pirandello, ma nello stesso anno Pirandello pubblica un altro testo, che non è probabilmente famoso come l'umorismo, ma è altrettanto importante ed è un altro saggio e si intitola Arte e Scienza. Nel 1910 vedono appunto la luce le prime rappresentazioni dei drammi pirandelliani, vengono cioè rappresentate le Lumie di Sicilia e la Morsa. 1912 Pirandello pubblica l'ultimo dei suoi libri di poesia fuori di chiave. Abbiamo voluto indicare solo questo libro perché il titolo è particolarmente significativo e quando poi ci addentreremo nell'analisi delle opere pirandelliane, il concetto di fuori di chiave tornerà spesso. 1913 è l'anno di un altro romanzo particolarmente importante e significativo, I vecchi e i giovani. Anche su questo, come su Mattia Pascal, come sull'umorismo, poi faremo delle video lezioni specifiche. E del 1915 la pubblicazione di un altro romanzo particolare. Il romanzo si chiama Si gira ed è il primo romanzo di Pirandello, anche l'unico, pubblicato sul cinema. Uno dei primi romanzi in letteratura italiana che affronta appunto il cinema. Questo romanzo poi verrà ripubblicato successivamente da Pirandello, ma cambierà il titolo e vedremo appunto quale sarà il titolo. Sarà il quaderno di Serafino Gobi Operatore, ma di questo diremo dopo. Ma il 1915 è anche l'anno di un'altra tragedia famigliata. Il figlio Stefano viene fatto prigioniero dagli austrieci e Pirandello non riesce, pur prodigandosi in tutti i modi, a farlo liberale. Gli anni che vanno dal 1916 al 1925 sono gli anni del teatro umoristico e dell'enorme successo internazionale che Luigi Pirandello comincia ad avere. Del 1913 è la rappresentazione dell'atto unico all'uscita, ma sempre nello stesso anno, cioè nel 1916, Pirandello fa rappresentare anche due altri suoi drammi, pensaci Giacomino e Gliolà, in dialetto siciliano. Siamo nella prima guerra mondiale, in un anno drammatico della prima guerra mondiale, ma Pirandello fa rappresentare due drammi veramente straordinari. E qua cominciamo un'escalation di importanza di questi drammi, perché in pochissimi anni Pirandello pubblicherà alcuni dei pilastri fondamentali della drammaturgia italiana. Così è, se vi pare, Il piacere dell'onestà nel 1917, Il gioco delle parti del 1918, nel frattempo comincia a raccogliere in volume questi suoi drammi, pubblica il primo volume di drammi teatrali che si intitolerà Maschere Nute, e anche su questo faremo una lezione specifica. Nel 1919 la situazione della moglie si aggrava in maniera tale che la donna deve essere ricoverata in una casa di cura, quindi né Pirandello né altri possono più prendersi cura del stato patologico della follia della moglie. Nel 1921 vede la luce sei personaggi in cerca autore, un dramma particolarissimo, all'inizio non ben accolto, oggi è diventato una delle tappe fondamentali del teatro del novecento, seguito nel 1922, cioè l'anno successivo, da l'Enrico IV, un altro dramma, anche questo, di primissimo livello. Nel frattempo la fama di Pirandello valica le Alpi, Pirandello diventa un autore i cui drammi vengono rappresentati in tutti i teatri del mondo. Nello stesso anno concepisce l'idea di raccogliere le novelle che ha scritto sotto un titolo che è novelle per un anno. Anche su questo faremo una lezione specifica. Nel 1924 Pirandello pubblica un altro dramma molto famoso, ciascuno a suo modo, e nel 1924 si iscrive al partito fascista. E questo è, diciamo, un passaggio delicatissimo. Si iscrive al partito fascista dopo l'attentato Matteotti, in una situazione dove ormai il regime dimostra di essere tale in tutti gli effetti. Molti si sono interrogati sul perché di questa scelta, che cosa rappresentava il fascismo per Pirandello? E proveremo anche noi a interrogarci e a fornire delle possibili chiavi interpretative. Questa scelta che sembra per certi aspetti incoerente, cioè l'autore che ha demistificato tutti i miti, che ha svuotato l'essenza stessa delle ideologie, che ci ha aiutato attraverso l'umorismo, a guardare con la lente deformata dell'umorista, quelle che possono essere i valori di una società borghese o comunque i valori cui credere, quindi i grandi valori di questa società, diciamo come questo personaggio abbia potuto scegliere il fascismo che ormai diventava di fatto un vero e proprio regime totalitario. E ci avviamo così all'ultima parte della biografia di Luigi Pirandello. Si tratta della stagione del surrealismo dal 1926 all'anno della sua morte. Cominciamo. 1925 è un anno particolarmente importante perché Pirandello pubblica Nuro Nessuno e Centomila e pubblica quel quaderni Serafino Gubbi Operatore che aveva precedentemente pubblicato con il titolo si gira. Ma in quest'anno assume anche la direzione del Teatro d'Arte di Roma, una direzione che Pirandello ha assunto in seguito a aver ricevuto la tessera del Partito Fascista. L'esperienza per la vita al Teatro d'Arte sarà piuttosto fallimentare, infatti si concluderà, vedremo subito nel 1928, portando diciamo più polemiche o comunque insomma incomprensioni tra Pirandello e Ministero della Cultura Fascista che altro. Diciamo che l'unica nota, se vogliamo così dire positiva, è quella dell'incontro con un'attrice molto famosa, Marta Abba, e l'inizio della relazione con lei tra Luigi Pirandello e Marta Abba. E nel 1928, l'avevamo già detto, la conclusione dell'esperienza nel Teatro d'Arte. Anche il momento in cui Pirandello si allontana piano piano dal fascismo, dalla celebrazione dei miti e dei farsi del fascismo. Ed è però il 1928 anche l'anno del cosiddetto primo mito teatrale, la nuova colonia. Di questo parleremo dei miti, della stagione dei miti, parleremo in una video-lezione specifica sul teatro. Nel 1929 pubblica il secondo mito teatrale, cioè Lazzaro, nel frattempo viene insignito il titolo di accademico d'Italia. Nel 1930 pubblica un altro dramma straordinario, cioè questa sera si recita al soggetto e inizia a scrivere quello che sarà il terzo e ultimo mito teatrale, I giganti della montagna, che poi vedremo in una lezione specifica sul teatro, non porterà a termine, sarà completata con altre modalità. E del 1934 l'episodio è importantissimo perché Pirandello viene insignito del premio Nobel per la letteratura. Nel 1936 Pirandello morirà. Nel 1936 Pirandello morirà.